Voglia d'impresa per lasciarsi alle spalle la pandemia è quella che emerge dal rapporto Trend Marche realizzato da Banca Intesa San Paolo, CNA Marche e Confartigianato Marche, con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università Carlo Bò di Urbino. A trainare la crescita del numero delle imprese sono i servizi e il terziario, con l'eccezione del commercio che perde 332 imprese. È una fase molto complicata quella che stiamo vivendo, condizionata dalla pandemia e dai risvolti che la pandemia ha portato, i rincani energetici, i costi delle materie prime, che potrebbero portare a un effetto di inflazione. Quindi va ristudiato il momento, il governo centrale deve concentrarsi nel dare risposte a calmirare i costi e gli aumenti energetici, quindi sulle materie prime, e bisogna mettere in campo una strategia che faccia tornare ad essere competitivo un sistema insieme. Nel suo insieme, l'importanza che noi stiamo promuovendo è quella di cercare di sostenere le imprese nelle varie fasi, dalla digitalizzazione, risultata fondamentale in questa fase pandemica, alla innovazione che è assolutamente importante per restare competitivi, e poi l'internazionalizzazione, il credito, la liquidità, la capitalizzazione delle imprese, la capacità di saper fare sistema, di aggregare le piccole e medie imprese nelle sfide che reciprocamente devono affrontare anche in maniera congiunta. Tutta una serie di elementi fondamentali, fattori indispensabili per poter tornare ad essere competitivi, come il sistema e come il territorio. Il sistema Marche vince insieme e quindi per farlo vincere insieme dobbiamo lavorare in questa direzione, anche grazie al supporto dell'associazione di categoria, dei corpi intermedi, delle università e di tutti coloro che, a livello istituzionale e a livello territoriale, possono dare un contributo indispensabile.